Oltre 150 le persone che hanno preso parte questa mattina alla manifestazione in sostegno del popolo palestinese organizzata dal collettivo bagolare. Studenti, cittadini, giovani, adulti, chiunque ha potuto prendere la parola in un'occasione definita da molti, un modo per non essere complici di quanto sta succedendo e per non guardare dall'altra parte. Questa mattina qui in Piazzale Roma per solidarietà nei confronti del popolo palestinese, quali sono gli aspetti che sono venuti fuori qua con tutte queste persone? Qua sta emergendo la disperazione di un popolo che si trova assediato da 75 anni, sottoposto a un processo di colonizzazione, quando questo processo di colonizzazione non avviene sul piano militare, ma avviene comunque sul piano edilizio come accade in Gisgiordania. Da 75 anni questo popolo è anche sottoposto a un potere assoluto di vita o di morte, privato sostanzialmente dei propri diritti umani più fondamentali e noi crediamo che la questione palestinese non sia semplicemente una questione che riguarda un popolo specifico, ma che sia una questione che riguarda la dignità del genere umano in quanto tale. FRIIT-PALESTAIN! FRIIT-PALESTAIN! FRIIT-PALESTAIN!